No categorico alla privatizzazione dell'aeroporto di Fontana Rossa e questo è il massaggio che arriva dalla conferenza stampa tenutasi stamane nella sala coppola di Palazzo degli Elefanti dai componenti del neogruppo consigliare del Comune Etneo insieme si può i consiglieri comunali Salvo Di Salvo, Agatino Giusti e il capogruppo Giovanni Petralia manifestano la loro perplessità sull'intenzione del Consiglio d'amministrazione dello Scalo Etneo di privatizzare la struttura. Abbiamo presentato una mozione al Consiglio Comunale con l'augurio che venga condivisa dall'intero Consiglio Comunale per dire che siamo contrari alla privatizzazione dell'aeroporto per diversi motivi, il primo perché è un patrimonio pubblico importante il secondo è uno dei patrimoni che dà centinaia di occupazioni che rilancia e mantiene un'economia nel territorio importante sia dal punto di vista turistico, culturale ma anche dal punto di vista commerciale e credo che l'idea di privatizzarlo a me fa paura perché le componenti che possono acquisire il 70% delle quote dell'aeroporto chiaramente possono essere componenti che non hanno nulla a che vedere con questo territorio che hanno la volontà di poter fare attività di impresa possono essere arabi, possono essere tedeschi, possono essere russi, possono essere londinesi. Di Salvo esprime poi ulteriori dubbi sull'operato del sindaco di Catania Salvo Pogliese e in particolare sul mancato coinvolgimento dell'Assemblea Consigliare e preannuncia la possibilità di iniziative popolari. Mi sarei aspettato da parte del sindaco Pogliese che prima di partecipare al CDA venisse in aula, coinvolgesse il Consiglio Comunale perché è l'organo deputato alla scelta in quanto rappresenta il Senato della città e questo passaggio non l'ha fatto. Quindi ne abbiamo presentato questa interrogazione i nostri consiglieri di municipalità la presenteranno nelle varie sedi opportuno mi auguro che anche l'abbiamo trasmessa ai gruppi parlamentari regionali mi auguro che anche l'Assemblea regionale si possa esprimere rispetto ai temi della privatizzazione dell'aeroporto così come è già saputo fare il sindaco Orlando dicendo anche lui di essere contro alla privatizzazione. Io sono disposto ad attivare una petizione popolare, a fare una raccolta firma e chiaramente farò le baricate perché non voglio che venga svenduto o venduto uno dei beni più importanti.